I due amici scattano e voi che dici vorresti andare in vacanza ma siamo in Dondare e io dici vai a Jugoslavia se è stato un bel guarda sono di là una volta vaga al ristorante vaga al ristorante in Jugoslavia che era un piatto che mi piaceva a mio io ho dato un schiaffo al Camarera ma portai subito una costetta meravigliosa stupenda che era dal vento che fava schifo d'anno a sbarare della Camarera e mi portai un bel vento bianco un fresco poi la ragazza diceva che sonneva e mi piaceva a mio e mi diceva che ragazza mi dà quattro sbarare di tal culo e cambia subito e cominciò a sonare un valser meraviglioso e vaga subito allora mi scattano dopo tre mesi allora si è andata in Jugoslavia si si ma le cambiai vaga a mangiare in tuo ristorante ma portai una roba che smagnava scusi potrebbe cambiarmi il piatto no ma se ne piasmi sto su vado a metà aperta e allora passa la Camarera e dice sai che lei è una gran bella ragazza la mamma mia è un schiaffo che mi ha fince e poi che era qui che sonneva e guardi non potrebbe cambiare un po' la musica e dì hai una pianta in una batteria con i bacchetti da batteria al momento è il minor bisa beh mi dice ma con chi si tende? e che sondè sti stè con l'Alpi Tour e io capisco mi sono stati del 43 con i tedeschi ha 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 ha